dall'orchestra spettacolo XXL Sono più piccolo e voglio ringraziare questi straordinari musicisti per l'opportunità anche loro che mi hanno dato ma ancora di più non solo perché sono dei bravissimi musicisti ma sono delle persone straordinarie Grazie ai tecnici come per esempio Benny Priorisi che è qui alle mie spalle che si sta occupando della parte audio da questo studio poi l'audio e il video dall'altra parte sempre con Marco Gentile e Giuseppe Raimondo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Valentina al microfono di Terry, da quanto tempo canti con questi ragazzi? Allora con loro da qualche anno, insomma sono felicissima di collaborare con loro perché davvero sono dei ragazzi molto seri e molto talentuosi quindi per me è un piacere ed un onore Un'orchestra che è diciamo circa 18 anni 18 anni, da qui tu mi hai detto che parte un po' tutto Da quest'orchestra si sono partiti diversi progetti da Scoppolo da Muri, questo ultimamente Poi Luna Rossa, lo spetto con le varietà Poi collaborazioni varie, poi più tardi mi devi dire di queste collaborazioni che avete avuto diciamo nel campo nazionale Chi era il più simpatico e chi era il più antipatico Non faccio fatica Non faccio fatica Non faccio fatica Abbiamo qui l'ospite a sorpresa che il professore Mimmo Mollica, benvenuto, buonasera, ciao Mimmo Ciao a tutti, buonasera Posso avere un tuo giudizio subito? Sì, sì, un giudizio molto positivo perché c'è stata una stagione di Domenica Inn nel 2005, mi pare, presentata da Mara Veniera e Paolo Limiti In cui i cantanti napoletani disponibili sul mercato sono passati tutti E devo dire che il risultato era abbastanza positivo visto che gli indici d'ascolto premiavano queste scelte In ogni caso per me sono premiabili perché mi piace moltissimo il repertorio classico E poco fa ascoltando Valentina sono stato veramente colpito In proposito mi ha colpito in questo brano qualche termine Diciamo pure superato, per esempio Fremito Fremito, d'amore Fremito, o anche signorina Ma anche signorina Pensa che negli anni 80-90 fu un deputato del partito socialdemocratico Oggi praticamente estinto Che si fece promotore di una legge parlamentare che obbligava a chiamare le donne Tutte signore Signore Posso dire un'altra cosa pertinente perché intorno al 2007-2008, non lo ricordo più Io feci una serie radiofonica in dieci puntate su Radio 2 Sì Che si intitolava L'italiano cantato Ed aveva proprio questo significato Di indagare un po' il linguaggio, l'evoluzione della lingua italiana Nelle canzoni, attraverso le canzoni E poi, sospirando Guaccia guaccia al piar di luna La penesta un bel po' Ora, mi domando Con quella sposata oppure no Ogni bacio arriva al mar Tu hai mai baciato il riva al mar? Sì E poi ti maritesti? Allora, dai, ma consumata Conosco la moglie, quindi è meglio che tu non lo dica È meglio che non si morata Cosa farete quest'estate? Quest'estate cercheremo di fare un po' di tutto Cercheremo di promuovere ancora Scoppola d'amore E poi continueremo con questi spettacoli L'XXL Abbiamo anche altri spettacoli Abbiamo lo show di Celentano Pienso a ballar con me bella figliola Ti segnerò la polca romagnola La sua boccuccia rosa mi consola Carina come te non ce n'è più E se ti guardo in viso mi sorriderai Con il bacio d'amore allora mi darai Se poi ti stringo forte mi dirai chi sei E poi si balla alla casa dei È arrivato un principe e quindi da quanti mesi? Un mese e qualche giorno, un mese e mezzo Diciamo che mio figlio è già stato qui Perché nella prima puntata di Celentano Ah vero, già tu l'hai aspettato, vero? Hai cantato con noi Quindi mi ha ascoltato e è stato qui E conosce già le nostre voci E quindi già è stato al Doc Night Live Uno dei più piccoli a essere stato al Doc Night Live A Capodorlando tra domani, dopodomani eccetera Ci sarà una bellissima manifestazione Che è l'Earth Day Infatti 22-24 aprile la Chef Green Francesca Monica Colella ha ideato e curato Insieme a Patrizia Damiano La manifestazione Capodorlando per la Terra Francesca è molto impegnata in questo Perché da anni si occupa di questo ambiente Chef Green Sì, lei è una chef green Ha studiato in America Si è laureata in management della ristorazione Ed è molto portata verso queste tematiche Qual è la canzone che quando eravate piccoli Giocavate insieme a casa con tua sorella Cantavate più spesso insieme Mamma, son tanto felice Proviamola, mi piace fare questo Mamma, solo per te la mia canzone vola Mamma, sarai con me Tu non sarai più sola Quanto ti voglio bene Queste parole d'amore Che mi sospirano il cuore Forse non si usano più Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu Sei tu per la vita E per la vita non ti lascio mai più A sorpresa, grande orchestra Beh, anche sull'argomento della mamma nella canzone Nelle canzoni c'è molta letteratura Un argomento importantissimo Anche giovanotti Ma qui apriamo link stasera che è veramente E infatti il nostro motto è quello di far partecipare E il più bel complimento che ti hanno fatto? No, vabbè Non ce ne sono A buono! No, no, no Valentina, invece il tuo piatto preferito? La parmigiana Parmigiana? Assolutamente, sì Con la mortadella Abbiamo saputo che Con la mortadella è una cosa leggera Con la mortadella è una cosa leggera Uova, uova, bellemente Uova, mortadella La miseria Sei vegana Buonasera, bella gente Come va? Sulle maglie il ritmo salirà La fortuna con il ritmo sale su Si si attacca a posto come un blu Il coie o, 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 o pensa, bevi se vincessi te orchestra, spettacolo XXL Sergio Camuti, Cesare Catalano Antonio Sardi, Antonio Nici, Salvatore Ferrara Giuseppe Grimaldi, Giuseppe Centonze, Giovanni Mastriani Marika Famà che non è qui presente Valentina Fabio, ringrazio il professore Mimolica, Cettina Fabio che sono stati qui con noi al Doc Night Live su Radio Doc, grazie a tutti buonanotte Marussella, Marussella Marussella, Marussella Vieni se a Gittadocchio mare